Via dopo il tiro di Milwaukee Grey 2.99 Mr. Chucky Fonte SM 3.60 Michi 4.70 Magnum Fonte SM 5.27 Matrix del Rio 7.80 Marcos Mack Mr. Chucky Fonte attacchato a largo da Michi Michi passa al comando su Mr. Chucky tabellone il 2 Meriteri a largo si impegna il numero 7 Magnum Fonte SM Galoppa lotto Mackenzie Hans Magnum Fonte nuovo leader dopo 400 29.7 Seconda in corda è Michi poi il numero 1 Mr. Chucky Fonte SM a tabellone il 9 mezzo Christian Rex i 600 46.8 Magnum Fonte SM Umberto Dodisco in vantaggio seconda posizione Michi in terza Mr. Chucky Fonte SM poi Marcos Mack che precede Matrix del Rio 1.38 è andata via metà corsa sposta adesso Giuseppe Pistone con Mr. Chucky Fonte SM il chilometro va via in 1.19.3 e Mr. Chucky Fonte va sull'altro targato SM Magnum Fonte compagni di allevamento in terza posizione Michi con Magnum che replica l'attacco di Mr. Chucky Fonte e poi sbaglia l'errore di Magnum e allora in vantaggio si ritrova il favorito Mr. Chucky che deve difendersi dal ritorno di Marcos Mack Marcos Mack che prova andare sul numero 1 Mr. Chucky Fonte SM Marcos Mack insiste allargo su Mr. Chucky sta passando allargo anche il numero 10 Matrix del Rio è passato il numero 6 Marcos Mack Matrix del Rio allargo che intervieni Marcos Mack Matrix del Rio Mr. Chucky Fonte 6-10-1 2-6-5 riferimento complessivo per Marcos Mack Dario Battistini bravo a crederci fino in fondo si salva dal ritorno di Matrix del Rio terzo Mr. Chucky Fonte SM grazie a tutti grazie a tutti